Bene, abbiamo il video del Consiglio Spurbicitario da Giuse Studio di Telegi, la televisione di Tattaro, una bella televisione, sempre presente. Marie, mi rimanete in una poesia, Mario? Ma mi tranno una trattata telefonata e noi si teniamo schiesto, eh? Pronto? Giovanni Dalghiero! Dalghiero? Scusi? Eh, Giovanni Dalghiero, ti ammettate a mie! Giovanni? Giovanni Dalghiero, non ti ammettate a mie! Non hanno se stanno al bidere, se stanno s'intendere, dai! Dai, metta se stanno s'intendere, però! Eh, sì, sì, dai, metta sì, no hanno, dai, no hanno bonus! Eh, bonus però! Sì, sì! Però ti ammettate a te, chiami! Va beh! E facciamo i decchi, chissene, dai! Eh, non ti ammettate a te, non penso che sia bollotto! Va beh, sicuramente, sicuramente, non abbiamo su, te ho apponato, sono tante delle telegi, non le dimmo noi, in saliera, boh! E stai solamente nel suo paese di Tattari, Naramo, il vicino, dai! No, scusa, voi se salitevano le disce, avete spuntato a parte di Urbana, a blu, su e in Facebook! Ah, bucuna sueste! Eh, sì! Tu è sempre allegro di più forte, no? Eh, beh, certo! Ascolta, però, via Facebook, dove non hanno spunti il bidere? Su computer, e mi! Ah, beh, Naramo, su computer è già là, così! Eh, è già da poi tu, Naramo, però, la situazione è che hai, che Naramo su voi fa chiedere su programma in diretta, compreso! Eh, con... E i cutane, e i cutane che fa chiedere sul video, so? No, 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 siamo in diretta, siamo a te i cutane! I cutane pure se ti si è in diretta? Boh, ti ha poi tu cosa registrata? Eh, cacca, che registrazione, sì, capite! Da che non c'ho votoenne che sono impegnato, ma non ha repica, questo sì! Però, come siamo in diretta? Ecco, come sei disindiretta? Sì, e stanotte, veramente, a mezzanotte, beh, sa repica! Eh, va beh, Matteo, sa repica non l'hai, dove te... Sì, che l'hai, sì, di te le fine su chi non era stuue! Ah, ah, su computer, gai! Eh, sì! Ah, vabbè, dando abbai tosa repica, sicuramente! Eh! E chi è batta, te, voetta? Un voetta è il Mario, il professor Mario Nurchis! Nurchis! Ah, Nurchis! Sì! E questo l'ha inteso, se so dare il suo computer! Eh, beh, viva! Apo parentesi in Salichera! Eh? Deo so connato di Tonino Baldino! Tonino Baldino, io lo conosco! Connato! Sì, lo conosco! Eh, eh, eh! Eh, cos'è se è connato! Sì! Eh, infatti, te ho di fatto il suo complimento, puoi te darà, ha inteso bella poesia, sa? Eh, sì! Grazie, grazie! Terry, ascolta, vi saluto caramente, Sì, sì! S'ha gioia, ammettati! Eh? S'ha gioia! S'ha sotto il mese a comincio! S'ha diretta! S'ha diretta in comincio a s'ho sotto il mese! Eh! Quindi, guardi, questo è giovane, deve venire da me, dove sei tornare in tenere, mi devo prendere a te che non vede il radio! Però qualche volta, hai tirato, se ne sono in mente, o lo tirano, però, sai che, non ti vuoi, perché sono puntato da Baldino e Urbara! Sì, 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 sì! Eh! Sì, vedete, mi stavo puntato! Ah, proprio compreso! Baldino e Urbara! Eh, sì! Bene! Amo in tenso amico, lo saluto molto chiaramente, e ho usato con tutta la famiglia, ammettati minoresi! ed è venuto tanto di accontentare a tutti se è possibile ed è una cosa, quando fai salto del golfo fa che io salto diretto come te i nove sia salto gioianotte sia domenica manzano due ore in trea e che mania sa? scantone sa intro e dove sono tutto coso sinceramente è venuto tanto capite il suo ascoltatore di Alfredo Ligio sul comitato di Sassuna del mare a nonno Deo mi vuole ne fatto ed è me lo sbalazzo tutto a manno e a minore ed è terminato il mare bene, mi teniamo un'altra poesia Mario culta è un'opacuseria che va è data proprio questa cosa intima dell'uomine che è il tuo umilterio è il tuo essere simile a tutti gli animali che nacchiti, viviti, moriti ma Deo su l'ha dato su anima immortale un parase responsabilitate e assalimentate omine bidrina essenzia minunca intiazzata de bagadura su zetta a sosarricor naturalese condizionata dai causante materialese e i piritualese frunida de cussenzia de esistere anelosa assessere che di inghiriata e tagliata topprimidi e tassegliata chiesese e ue andasa su segreto de se esistenzia tua e il tinoghe inter truma de bias imbogiatasa in cheladasa e quadasa non ti tracchese di chichare cussa giusta e bera uomine mancare notabizzese giughe sinfinità di accoglio si sa morte e sa beu trovea azzettala che parte su segreto incontestabile e assoluto di tutta vita arcana i cumiti d'otto deattie vivenne a succutto e con dignidade totu zughi ise tacchefidu intregare all'interno di te bella poesia ha sanato tutto progare tutti quello Gesù Cristo non ha dato una pro naschere una pro morre una pro estarene e una pro estare male sempre male non poter stare ma si narra rughe esatto bravo Mario ha sanato tutto e ha detto in un altro sicuro casa al bravo bene Mario però l'ascoltatore di Alfredo Nello all'egra coro intendevo sull'altra poesia tanto culta fai da sanatura ma comente comente a Giovanni Pascoli l'epaffido che sanatura pianghia ad un uvago cunisse però sa morte del subabu no? ecco invece fidi naturalmente sicuramente fidi puro ateu ecco fidi una un pensamento deisse mentre invece deo penso chisa natura deaberu ecco sia da curiosa deidere comente un uomine fluiditu ad essere immortale dai come te ha ponato fuiditu fuiditu esatto fuiditu ah abboltasa mi parete abboltasa mi parete che su cipressiu mulmutta consizzoso e bichigliata insumbra ma carata da esuentu che verrete allebio allebius affrundasa che indetermena penasa e sia da essere uno pensamento de consolo cando su damariciu vioridu drinni ternurosu e duche in su sole de su eranu e cando sa cassia acciottada da esuentu fuliosu salleventada pro su dolore il tremoroso il ippantamada cannugiata da esappantaviu forzisi e paghende una pena de innocente a bortasa suzzediti chi una nue de undasa de nuco cuadoso de amore ipainatu affusatu de esuniedore de saifaltu mi carignata a bortasa mi pare chi no so solo casa natura oriolata e amorosa mi banzicata a nariende de saffagliare meu illudiosa decomente un omine fluidito ad essere immortale bravo mario veramente una cosa bella curiosa di sa natura sa natura al patacai sa natura al patacai mezzo sa se bastardo che non mai la vediamo ma è una rosè prevede sa bucciano il macchino in mezzo morire a tanto o in mezzo non morire mai esatto questa poesia peste a taulino come te custa improvvisata raccontoso l'unica cosa libera questa poesia carne libera questa poesia che era fatta gai e l'ha ponata uno che hanno i stasi minori che non la deve stoccare si del bene sa mente gai come te non sei scherato che del bene so la di fare la poesia lascia stare non la tocchi più su casa non la guasta e il gai sul tempus che si ha posto come te del bene non si stimola gai è un'impirazione si è una cosa bella veramente bravo bravo mare mi godo per la poesia ti spiego per te che la comprendo se è rimata se non è rimata e su che è più buona si è messo che qualcuno va che sa poesia però non sa più da chi si fa la mera hai bisogno di rispettare la poesia deve essere universale esatto potrebbe essere un studio sopra e a mia esatto ma a questo tempo si fa ed ha del sommine esatto bravo quindi dedotto il sommine ok bene teniamo un'altra poesia ma questa poesia è dedicata a un amico poeta chi l'ha da arruinato sa muzzere ah questo mi dispiaga l'ascendolo è seise e fu rende l'ipurus amore desolfizzo ah e gai sa vita sua vedi una tribulia continua desolidate ebbè amico poeta tra sinai tra sinai sa vita tua un pare sa solidate chi gregiava ora cantora comente sa ivamala e su giardino abbandonato a tocaia sa s'angultia e su bibiu dei atti e currima sa pensamentosa sa abuzzata sa e cammentosa sa su quanto desarrundines e dei sarrana sa ti facchia una companzia e assuleno a bortasa ti guaias a totu cantoso e finza sa tie e totu ti mende sa notte e sumo di gore so pieno di aggegioso e de greboso ma una die desubitano sa amico manu che di conocchia da fundu ti caggiuto atteso dai cussavita il traziata e deo non t'appo poti dudare su ultimo saluto eh 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 caro mario ma se tutto nel fattacare eh e gasi che è morto e su e gasi che è morto e tutti morimo eh no ma de grebacoro eh beccetti no de allegragoro de allegragoro su contrario su contrario su contrario bravo mario prima di leggere una trafosia poi mi entrava una telefonata e noi si torniamo chiesto pronto buonasera signor Alfredo buonasera gavina 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 come ti sta bene bene e voi come state e famiglia e insomma dai dai salutami caramente a babbo tu eh grazie 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 altrettanto vogliamo essere giù a tutti tanto anche là a tutti bravo gavina bravo voglio salutare venuto il suo poeta se non lo conosco eh un bravo professore un bravo poeta grazie grazie gavina gavina si c'era il premio intendete eh l'interno tu che non hai l'interno la mia magari eh come si come si all'interno sono già di cellulare quindi non è che si intende a me ah 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 che è va bene come si all'interno è il suo professore Mario Nurchis bravissimo un bravo poeta e ti saluto chiaramente ma perché si intende buttare i mari di me ogni tanto gira il canale quindi e poi ti gira il canale che questa è la cultura sarda questa è la cultura sarda questa è la cultura sarda va bene va bene va bene ciao carissima arrivederci ciao gavina ciao bene ma è stata la gavina ha avuto la famiglia sul cellulare e la che gavina è da corpo ovvero ha salutato tutti a mano ai minori e noi ha saluto la mascarametta per una saluta al suo babbo e tutta la sua famiglia a mano e a minore non mi sembra come dire una cosa a Samaria e ho vedendo tanto e non ho chiesto adorare a nessuno che mi ha andato lei parla sempre di sardo sono sardo e mi ne è un oro di essere sardo non posso vedere l'inglese non posso vedere l'italiano che ho vinto l'italiano pure che hanno un biglietto che hanno un biglietto che hanno un biglietto che lo vogliono a parte sale in basalda e avete la volta in prima fila poi ognuno facete sugli viaghe io non lo so non lo so a nessuno avete pazientemente e non mi piace a metà non lo fai però noi ti salutiamo chiaramente con un abbraccio e un'istrinta e mano eh? bravissimo e terminate al mare però prima di leggere una poesia vanno sui cosiddetti pubicitario allegra ora non lo so non lo so non lo so non lo so